Noi siamo qui per lottare per il diritto ad avere una zona libera da questo mostro. Sono nuovamente scesi strada i residenti di Via Sicilia per ribadire un fermo no all'installazione dell'antenna della Discordia. Gli operai, dopo il montaggio del palo nei mesi scorsi, sono tornati in questi giorni a lavorare e la preoccupazione adesso è che l'antenna venga presto accesa. Da qui così, di nuovo, la richiesta di un intervento da parte del Comune di Arezzo. Non vogliamo assolutamente che questi lavori vengano portati a termine perché crediamo di avere ragione, di essere nel giusto e chiediamo per questi motivi al Comune che ci comunichi quanto prima l'esito del procedimento di autotutela perché riteniamo che il provvedimento autorizzatorio in Manaline Witt sia un provvedimento viziato sotto molteplici profili. La richiesta, dunque, è quella di sospendere tutto fino a che almeno non sia terminato il procedimento di autotutela che deve stabilire se l'autorizzazione per quell'antenna è corretta oppure no. Questo in primis e poi subito, o quantomeno nell'arco di pochissimi giorni, l'esito del procedimento di autotutela che è aperto da maggio. Cioè il Comune prenda per questa questione una decisione chiara e precisa nell'interesse dei suoi cittadini.